Un po' deluso, una grande partita, è mancato però il punto. Così, perché abbiamo giocato bene, un episodio ci ha rovinato la partita. Cosa hai provato dopo il gol? Segnare al Ferraris è sempre un'emozione, quindi volevo correre sotto la curva, poi sa che ho esagerato perché l'arbitro mi ha munito. Gol numero 100 del Genoa alla Juventus, il tuo? Non la conosco questa statistica, però sono contento per me stesso, però come ha detto lei sono un po' deluso perché ovviamente meritavamo di più.